Filippo Busine, che cosa ha chiesto al Ministro Carrozza? Che venissero attuati controlli più ferrei per quanto riguarda le dichiarazioni dello stato di povertà o di bisogno da parte degli studenti che richiedono sussidi allo studio, perché da verifiche fatte dalla Guardia di Finanza, come riportato dalle cronache recenti, oltre il 60% di questi studenti presentava delle dichiarazioni false. E questo a tutto danno di chi di questi sussidi ha bisogno e che quindi non possono accedere ai fondi. Ricordiamo che soprattutto in certe zone d'Italia, fra le quali il Lazio, quasi un studente su tre che fa richiesta e che avrebbe diritto, in base alle proprie condizioni economiche, a questi supporti allo studio, non lo ottiene per mancanza di fondi. Quindi è ancora più grave. Il Ministro cosa ha risposto? Il Ministro ha risposto con il provvedimento del Governo che rivede i criteri per stabilire l'ISEE e quindi in questo senso mi sono dichiarato anche parzialmente soddisfatto in quanto abbiamo approvato questa riforma. D'altra parte però ho trascurato completamente altri temi da noi sollevati, come quello ad esempio di definire in modo più chiaro la situazione economica degli estracomunitari che usufruiscono largamente, in certi casi occupano circa l'80% delle abitazioni riservate agli studenti bisognosi a scapito di quelli italiani che ne avrebbero altrettanto bisogno. È rimasto soddisfatto dalle parole del Ministro? Diciamo parzialmente. La questione resta aperta e secondo noi il lavoro da fare è ancora molto. Ad esempio? Ad esempio facendo scelte coraggiose come quella della Regione Veneto che ha posto un tetto al 3% per gli studenti estracomunitari e in questo modo lasciando più spazio ai nostri concittadini che ne hanno bisogno.